ciao a tutti in questo mini video scopriamo questa creazione in resina che sono davvero molto curiosa di svedere come uscita perché non so ha fatto uno sfondo un po strano e anche il personaggino è boh vediamo un po per prima cosa dobbiamo farla uscire da qui aiuto ok è molto sottile anche vediamo state pronti oh mio dio allora 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 lo so che già batman è scuro però ho voluto farlo tipo una galassina un po strana e mi piace tantissimo ok no vabbè oddio è bellissima poi l'ho fatta anche a punta wow mezza galassia batman nella galassia non so quanto c'entra però non lo so mi 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 ok niente allora a me piace tantissimo ero preoccupata ma è venuta bellissima quindi voi fatemi sapere cosa ne pensate se vi piace se non vi piace ditemi qualcosa ditemi quello che volete io vi ringrazio di aver guardato questo mini 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 video vi mando un sacco di bacini ciao ciao ciao